Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 26 febbraio alla Zuppa di Porro. Oggi si parlerà di tante cose sui giornali, siamo in clima l'ultima settimana elettorale. Come sapete questa sera abbiamo un'intervista a Matteo Renzi, a Giorgio Meloni e a Piero Grasso e quindi avremo una puntata in prima serata di Matrix che abbiamo chiamato Prime o Prime se siete degli amanti di Amazon. Proprio per capire che cosa succederà nella politica e cosa succederà fra una settimana. Le notizie però sui giornali più incredibili di oggi, anche perché in Italia queste notizie vengono date così con l'idea che sia una roba en passant, è che il presidente Xi, il presidente cinese, che è diventato presidente e nominato al Comitato Centrale nel 2013, ha deciso una cosa di quelle che qualche grande condottiero fa lo fece Cesare, inteso nel 90-50 a.C., 59 a.C. e forse quando ha provato a farlo Putin i giornali erano pieni di commenti, cioè ha deciso che lui può rimanere presidente a vita. Io mi ricordo i paginati dei giornali che ci raccontavano di quanto Xi fosse illuminato e di come ci spiegasse l'importanza del libero mercato a Davos non di quest'anno ma dell'anno precedente e quanto invece si criticasse l'America, di Trump, l'Europa e tutto quanto. Adesso questi si fanno il dittatore, non si chiama tale e nessuno lo commenta per quello che è. A me va anche benissimo definirlo, fare presidente cinese, forse le cose funzionano anche meglio. Non è questo il tema, il tema è che è straordinario come quello che avviene in Cina una volta che prendi il lato giusto sui giornali non viene più commentato in quella grande bolla del politicamente corretto. L'altra grande notizia invece politica è quella che riguarda le grandi intese. Oggi secondo il trick e track dei giornali le grandi intese si allargano e i giornali non fanno altro che riportare quello che dicono i politici che nell'ultima settimana non possono che dire che le larghe intese non si facciano perché se dovessero dire che le larghe intese si fanno dovrebbero dire due cose che la legge elettorale che hanno fatto è una merda perché è una legge elettorale che non porterà nessun vincitore e questo non lo possono ammettere dopo averla fatta e la seconda cosa è che devono chiedere voto contro la destra, la sinistra o contro il centro e contro il Movimento 5 Stelle per poi dopo mettersi d'accordo un minuto dopo. Quindi le larghe intese non si fanno oggi secondo i leader politici d'altronde il paese che è considerato serio dall'Italia anche se il leader dei socialdemocratici è un cazzone che si chiama Schulz beh in quella campagna elettorale tedesca per mesi si è detto che non sarebbero state mai fatte le larghe intese dopo le elezioni il capo dei socialdemocratici ha detto che non si farà mai un'alleanza con la Merkel e hanno fatto un'alleanza con la Merkel. Qualcuno di voi alzi la mano, faccia così su internet dice e crede che non si faranno le larghe intese? Io non ci credo per niente. Oggi Franceschini dice in maniera credibile dal punto di vista contenutistico ma non credibile dal punto di vista effettivo il ministro della cultura dice l'esperienza già fatta nei sei mesi del governo letta col centro-destra ci fa capire che non è possibile fare intese con il centro-destra. Secondo voi quando offriranno a Franceschini di continuare il suo lavoro al ministero della cultura e al Mibact Franceschini si ricorderà di questa frase? Io ho qualche dubbio non perché ce l'abbia con Franceschini che peraltro sta facendo benissimo probabilmente meglio di altri ministri della pubblica pensate poi abbiamo avuto bondi mi ricordo tanto io quanto dovetti difenderlo sulle minchiate che diceva ma fu fatto fuori per un crollo che avviene sempre cioè quello di Pompei ma dico io un ministro quando gli diranno se ti facciamo le larghe intese così tu rimani lì secondo voi diranno no io avevo detto che non si fanno Bersani dice basta vedere i candidati del PD in Sicilia e in Emilia cioè i candidati del PD in Sicilia sono quelli di Lombardo che faceva le grandi intese con il centro-destra e quelli in Emilia sono Casini che ha governato col centro-destra dice Bersani per capire che le larghe intese ci sono sono già là sono appena fatti devo dire che su questo Bersani dice una cosa abbastanza evidente l'altra grande cosa è l'ipocrisia di dire facciamo soltanto un governo di scopo per cambiare la legge elettorale allora secondo voi questa legge elettorale non porterà un vincitore ma ci sarà qualcuno che è avanti qualcuno che è indietro secondo i sondaggi dovrebbe essere avanti come primo partito il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere avanti come coalizione il centro-destra e dovrebbe essere indietro come terzo il PD beh e secondo voi si mettono d'accordo per cambiare una legge elettorale? per capire chi è il vincitore al prossimo giro? ma di che stiamo parlando? pensiamo semplice ragioniamo facile facciamo il lavoro più semplice del mondo il macellaio che è il lavoro più difficile del mondo ma quando feconti quanto è pagato? un etto questo costa l'etto il pizzicagnolo quanto è preso di salame? 3 kg 3 kg di salame questo paghi beh abbiamo questa legge elettorale abbiamo queste maggioranze cosa pagheremo? un governo di larghe intese ci metto sopra la firma a meno che non vinca uno dei due ovviamente posso sbagliare? tutti si possono sbagliare in politica i dubbi miei sono i dubbi di un liberale ma comunque ve li esprimo ieri il cavaliere ha parlato per due ore e mezzo al teatro Manzoni dopo essere stato dalla Dursa per pagare mezz'ora oggi i giornali ricordano come è andato anche un po' lungo sulla Dursa allora io mi sento di dare al cavaliere un consiglio non richiesto due ore e mezzo neanche Carmelo Bene va bene? neanche Carmelo Bene tiene una plateia neanche un film di Tarantino tiene due ore e mezza tant'è che Kill Bill me l'ha dovuto dividere in due Kill Bill 1 Kill Bill 2 perché non è riuscito a fare un film di 5 ore c'era una volta in America l'hanno tagliato e durava 3 ore allora la presunzione di poter parlare per due ore e mezza e tenere un pubblico incollato per due ore e mezza io capisco che Cavaliere ne ha fatte tante nella vita ma è un pubblico che secondo me ieri come in quel film l'aereo più pazzo del mondo c'era chi si suicidava chi si dava le pugnalate chi si gettava la benzina e si dava fuoco perché due ore e mezza per sentirsi dire che cos'è la flat tax da persone che già conoscono la flat tax perché sono candidati di Berlusconi beh mi sembra un esercizio di retorica davvero eccessivo beh mai quanto quello della Bonino come oggi scopre il fatto quotidiano che dice mai al governo con questa centrodestra mentre la Meli sul Corriere della Sera spiega come la Bonino potrebbe addirittura essere un candidato Dio me ne voglia di Berlusconi quando non si trova l'accordo cioè il candidato del presidente cioè il candidato del presidente dovrebbe essere la Bonino cioè io se la Bonino diventa il candidato del presidente devo dire che faccio un monumento all'ipocrisia dei radicali ma la cosa straordinaria che ricorda oggi lo strilone del Movimento 5 Stelle cioè Travaglio sul fatto è che la Bonino dice mai col centrodestra quando lei per Pia per dieci anni c'è stata ha fatto commissario europeo in commissione europea ma per dieci anni era alleata col centrodestra viene veramente da ridere Gentiloni ieri dalla D'Urso che era quella a cui non si doveva andare la televisione trash ma ci va ci va prima di Berlusconi promette nel tempo ce lo ricorda il fatto di cambiare le pensioni basta il canone televisivo e gli aiuti per le famiglie che hanno bisogno della badante allora io dico ma allora sono tutti bravi a fare le promesse loro dicono che questo è il voto di scambio io non ci vado così avanti ma insomma mi sembra comunque una cosa da ridere Salvini si presenta si presenta a un comizio con il rosario che le hanno regalato e con la Bibbia e tutti lo sfottano tra l'altro anche l'arcivescovo di Milano oggi il pezzo più interessante è di Socci Antonio Socci sul Libero ve lo consiglio perché dice quando il Presidente della Repubblica americano giura sulla Bibbia e quando dice non solo lui dice altre cose insomma non solo il Presidente americano ma tanti altri tanti altri utilizzano i simboli i simboli diciamo cattolici Socci dice l'arcivescovo invece di aver fatto il fenomeno l'indignato doveva essere contento dello spot che finalmente c'è un politico che fa per la religione cristiana e dice forse avrebbe preferito quello che è successo pochi mesi fa pochi anni fa e cioè avere il sagrato del Duomo pieno di musulmani che pregano verso la Mecca chiede Socci dice avreste preferito tutte quelle diciamo estensioni della anticattolicità che sono così politicamente accettate da tutti uno si tira fuori il rosario e una Bibbia invece viene condannato dall'arcivescovo di Milano se la prende giustamente con l'arcivescovo di Milano sono affari loro poi dopo gli elettori la pensano come gli pare devo dire che il pezzo di Soccio è molto convincente da leggere stupendo la storia del termovalizzatore di Acerra che è stato fatto grazie a Berlusconi e Bertolaso grazie al quale la gente se lo dimentica 713.000 tonnellate di rifiuti vengono trasformati in energia elettrica senza nessun inquinamento ad Acerra hanno rotto i coglioni su questi termovalizzatori con quei preti di strada e da strada non solo preti di strada preti da strada porporati che rompevano le balle sull'inquinamento quello è come spiega oggi Cingolani in un pezzo che dovete leggervi dalla prima all'ultima riga grazie al termovalizzatore di Acerra non solo si inquina di Milano non solo hanno risolto il problema dell'emergenza dei rifiuti praticamente all'80% a Napoli non solo tutto ciò ma hanno ridotto lo spazio alle mafie perché ovviamente non si devono trattare in maniera strana questi rifiuti cosa che invece il candidato del Movimento 5 Stelle l'ex forestale che è diventato carabiniere che è la cosa straordinaria ha creato sulla terra dei fuochi la sua fissazione e la sua fortuna è diventato questo Costa che fa le interviste al fatto un giorno sì un giorno no il carabiniere della forestale l'angelo custode il protettore dei bambini che muoiono per i tumori che muoiono purtroppo e dobbiamo essere talmente seri da ricordare che l'incidenza dei tumori secondo quello che ha manifestato l'istituto zooporidattico della campagna l'istituto superiore della sanità con la terra dei fuochi non c'entrano ahimè nulla chiaro? muoiono i bambini? sì ci sono delle zone inquinate nella terra dei fuochi? sì c'è un carabiniere un forestale che di questo ha fatto la sua campagna personale come il capitano ultimo quando lavorava per Vudko perché essere il grande salvatore della patria? sì capito? mettere insieme tutto cosa porta? porta a quelle contestazioni cretine deficienti criminali per i quali non si doveva fare il termorizzatore di acerra grazie al quale è stato ridotto l'inquinamento è stata ridotta la criminalità e sono stati ridotti i costi per i napoletani ed è stata aumentata la capacità energetica di quella zona chiaro? allora prendete cingolani sul foglio e prendete l'intervista sul fatto del forestale che grazie a quelle interviste è riuscito a diventare candidato al ministero dell'ambiente del movimento 5 stelle leggetevi oggi tra l'altro il secondo contesto che è quello di Sgarbi sul giornale che vi dice ma con quale credibilità questo potrà tornare a fare il carabiniere quando è candidato al ministero dell'ambiente è già accettato prima Rosa dice stai dicendo solo scemenze sì lo so quando si parla di Terre dei Fuochi di Acerra non si può discutere andate a leggere cretini ignoranti quello che ha fatto Acerra andate a leggere quanto inquina Acerra andate a leggere quante persone vite umane si sono battute fino alla fine per Acerra andate a leggere quanto Bassolino è stato indagato per un famoso call center per Acerra e dopo cinque anni nonostante la prescrizione sette anni nonostante la prescrizione Bassolino si è stato assolto perché qual era il suo problema era che voleva il termovolarizzatore di Acerra tutto il resto ultimo nessuno di noi ha detto che era un forestale siccome è venuto a perquisirmi a casa mia favoloso mio ascoltatore non ho detto che era un forestale era del nucleo ambientale nucleo noi si chiama va bene ecologico e lavorava per Woodcock non ho detto che era un ambientale era uno che ha catturato Rina grazie a un pool di magistrati e di poliziotti ed è diventato gente che con Rina che con Woodcock trattava tutti gli indagati me compreso come se fossero dei mafiosi chiaro? questo era ultimo e non esitiamo nessuna mancanza va bene? come mi confessò il generale Mori che di ultimo è stato uno dei suoi diciamo comandanti quelli sono grandi poliziotti grandi carabinieri ma devono essere controllati perché se vanno per la loro strada fanno soltanto dei pasticci pasticci che non dobbiamo fare questa sera abbiamo Matrix 105 in radio da 19 alle 21 e 30 mi raccomando guardate tutti quanti Matrix su canale 5 Matrix Prime ospite Matteo Renzi Meloni Grasso e Sallusti giornalista che incalzerà l'ex presidente del consiglio chi non viene è un traditore ciao